Buongiorno, oggi vi parlerò del Libro dei Morti degli Antichi Egizi. Il titolo di Libro dei Morti, dato convenzionalmente a questa raccolta di formule destinate al defunto, deriva dalla definizione che ne diede l'egittologo tedesco Karl Richard Lepsius quando nel 1842 pubblicò il papiro di Juefang del Museo Egizio di Torino. Questo manoscritto, facente parte della collezione Drovetti, proviene quasi certamente da Tebe e risale al II secolo a.C. Il volume di Lepsius, il primo dedicato a questa composizione, si intitola infatti, come potete vedere, das Totenbuch, cioè il Libro dei Morti appunto. Definizione che è entrata nell'uso corrente anche se non ne riflette esattamente la natura, innanzitutto perché, come vedremo, non si tratta di un libro nel senso preciso del termine. Gli Antichi Egizi però utilizzavano un'altra definizione per indicare la raccolta di testi che compongono il Libro dei Morti, cioè formule per uscire al giorno, come risulta dall'incipit di alcuni papiri. Questo titolo rispecchia la funzionalità e lo scopo delle formule che dovevano appunto permettere al defunto di uscire dall'aldilà e dalla tomba per poter tornare alla luce del sole e così rinascere. La concezione egizia post-mortem, espressa nel Libro dei Morti, prevedeva infatti che ogni individuo, dopo una serie di riti che avrebbero dovuto fargli ritrovare l'integrità fisica e garantirgli la funzionalità del corpo a seguito della mummificazione, riti che erano compiuti sulla mummia durante la cosiddetta cerimonia dell'apertura della bocca, sarebbe partito per un viaggio ultraterreno negli inferi, in quella che viene chiamata la Duat. Questo viaggio seguiva il percorso quotidiano e ciclico del dio sole che ogni sera tramonta ad occidente, scende nell'aldilà e percorre il regno dei morti prima di rinascere ogni giorno all'alba dall'orizzonte orientale del cielo. Tale viaggio del defunto è raffigurato anche in alcune delle scene o vignette, come potete vedere, che corredano il Libro dei Morti, dove, per esempio, l'individuo compare a bordo della barca del dio sole oppure, a destra, è raffigurato mentre rivolge degli inni al dio sole quando questo sorge. Se Lepsius fu il primo egittologo a pubblicare uno studio sul Libro dei Morti, fu però Jean-François a Champollion il primo ad interessarsi all'analisi di questa raccolta di formule. Durante il suo soggiorno torinese, dal giugno del 1824 fino alla fine di febbraio del 1825, quando, accolto dagli accademici delle scienze, esaminò molti reperti della collezione Drovetti, che erano giunti di recente nella capitale Sabauda, Champollion si dedicò anche al lungo papiro di Huefang, lo stesso che, come abbiamo detto, sarebbe poi stato pubblicato dall'Epsius 18 anni dopo. Il nome che Champollion diede a questa raccolta fu Grand Rituel Funerère, Grande Rituale Funebre, una definizione che oggi non ci appare corretta dal momento che non si tratta di testi associati ad antichi rituali, bensì di una sorta di promemoria o di manuale pratico, potremmo dire, ad uso e consumo e a beneficio del defunto. Questi, infatti, per poter attraversare senza problemi il mondo ultraterreno e così uscire al giorno, cioè rinascere, avrebbe dovuto superare una serie di prove ed evitare una serie di pericoli per i quali il Libro dei Morti doveva appunto venire in suo aiuto. Per questo motivo i rotoli con il Libro dei Morti venivano deposti nelle tombe come parte del corredo funerario. Come risulta da alcuni manoscritti oggi conservati alla Bibliothèque nationale de France a Parigi e che vedete qui riprodotti, Champollion trascrisse i titoli di questi, dei capitoli del Libro dei Morti di Uefang, suddividendoli in sezioni e aggiungendo anche alcune osservazioni sulle vignette che accompagnano questi testi. Del Libro dei Morti poi parla anche in alcune delle sue lettere come quella qui riprodotta risalente appunto al 1824 scritta da Torino. Le prime formule del Libro dei Morti, in parte derivate da composizioni più antiche come i testi delle piramidi e i testi dei sarcofagi, risalgono alla dodicesima dinastia o a quello che è noto come secondo periodo intermedio, cioè tra il ventesimo e il sedicesimo e la prima metà del sedicesimo secolo avanti Cristo e fecero la loro comparsa inizialmente in ambito tebano. Tuttavia la grande diffusione di questa composizione avvenne a partire dalla diciottesima dinastia, cioè dall'inizio del nuovo regno, siamo intorno alla seconda metà del sedicesimo secolo avanti Cristo e continuò poi fino all'epoca romana in tutto l'Egitto. Le formule del Libro dei Morti possono trovarsi scritte su diversi supporti. Qui nelle immagini vedete papiri, potevano essere scritte su papiri, su sarcofagi, sulle pareti di tombe o addirittura di templi, su lenzuoli funebri usati per avvolgere le mummie prima di deporle nel sarcofago, su scarabei del cuore, sui quali sulla parte piatta degli scarabei veniva iscritto il capitolo 30 nel quale il defunto chiedeva al proprio cuore di non testimoniare contro di lui durante il giudizio divino, oppure ancora su ostraca, vale a dire dei cocci di calcare che venivano usati come schizzi preparatori per le iscrizioni da riprodurre poi per esempio sulle pareti delle tombe o ancora su statuine funerarie, quelle che sono note con il nome di usciatti, sulle quali veniva scritto il capitolo 6 del Libro dei Morti nel quale il defunto esorta la statuina a lavorare al proprio posto quando gli sarà chiesto di compiere una serie di lavori agricoli nei campi dell'aldilà. Spesso il titolo e l'incipit della formula sono scritti con l'inchiostro rosso, eppure il rosso veniva usato anche per la rubrica, l'eventuale rubrica finale che accompagna alcuni dei capitoli in cui viene specificato quello che è lo scopo della formula, per esempio colui che la conosce può entrare e uscire dall'aldilà, oppure si danno delle istruzioni precise su dove deve essere scritta la formula e su come e quando deve essere recitata. Ad oggi sono note circa 200 formule del Libro dei Morti, ma non esiste un esemplare che le raggruppi tutte. In realtà ogni Libro dei Morti è una composizione a sé, potremmo dire una composizione personalizzata, contenente una raccolta di formule o di capitoli più o meno ricca che varia da caso a caso. Ovviamente chi aveva maggiori disponibilità finanziarie poteva permettersi un papiro più lungo e più completo di pregiata fattura con delle vignette colorate. Chi invece aveva meno mezzi a disposizione doveva accontentarsi di papiri più corti, con una selezione ridotta di formule che spesso si limitavano a quelle più significative e anche con una redazione meno curata. Si va così da Libro dei Morti di qualche decina di centimetri fino a papiri molto più lunghi. Il papiro di Torino di cui abbiamo parlato è lungo circa 19 metri, mentre il cosiddetto papiro Greenfield, conservato al British Museum di Londra e appartenuto ad una sacerdotessa, raggiunge la lunghezza record di 37 metri. Le formule che dovevano comporre un libro dei morti erano probabilmente scelte dall'acquirente, ma esistevano anche dei rotoli di papiro con dei libri dei morti preconfezionati e quindi con una selezione di formule già fatta da uno scriva in un atelier. In questi casi, al momento della stesura delle formule, veniva lasciato vuoto lo spazio destinato a contenere il nome del defunto che sarebbe stato aggiunto solo al momento dell'acquisto e di solito ad opera di uno scriva diverso rispetto a quello che aveva redatto il papiro, uno scriva talvolta meno abile e che poteva in qualche caso anche dimenticarsi di riempire tutti gli spazi, come potete vedere in basso a destra. Sino alla venticinquesima dinastia, quindi siamo grosso modo all'inizio del VII secolo a.C., non esisteva una sequenza prestabilita per le formule di un libro dei morti. La successione dei testi era arbitraria, ad eccezione di alcuni capitoli che di solito si trovavano all'inizio del rotolo, come per esempio il capitolo 1 o i capitoli 17 e 18, oppure altri capitoli che avevano tendenza ad essere copiati insieme formando come dei piccoli gruppi. Fu solamente a partire dall'inizio del VII secolo a.C. e poi soprattutto nella successiva ventiseiesima dinastia saitica che i sacerdoti tebani misero mano alle formule del libro dei morti stabilendo una sequenza precisa dei testi che ci appaiono, che sembrano essere raggruppati in alcune macro sezioni tematiche. Questa cosiddetta recensione saitica comporta nella sua espressione più frequente e canonica 165 formule che sono esattamente quelle che compongono il libro dei morti di Uefank e che sono state appunto numerate dall'Epsius nella sua pubblicazione dal numero 1 al numero 165, una numerazione che seguiamo ancora noi oggi. Come abbiamo detto i testi che compongono il libro dei morti dovevano aiutare in vario modo il defunto nel suo viaggio ultraterreno consentendogli di uscire al giorno e quindi di rinascere. In particolare le formule dovevano permettere al defunto di bere e di respirare come viene indicato anche da alcune vignette per esempio quelle in alto a sinistra oppure dovevano impedire che il cadavere si decomponesse, dovevano aiutare il defunto a respingere una serie di esseri pericolosi che avrebbe potuto incontrare nell'aldilà come indicato nella vignetta che mostra il defunto in atto di respingere quattro coccodrilli oppure dovevano garantire all'anima che si definisce nei testi egizi il Ba di muoversi liberamente tra il mondo dei vivi diciamo e il mondo dei morti e ricongiungersi costantemente con il corpo del defunto che giaceva nella camera funeraria come indicato nella seconda vignetta in basso la seconda da sinistra. Oppure dovevano fornirgli la conoscenza necessaria per attraversare alcune prove o alcuni ostacoli e per esempio il caso di una serie di capitoli dove il defunto doveva mostrare di conoscere i nomi di una serie di divinità e di alcune porte che si trovavano nella duat cioè nel mondo ultraterreno e i nomi anche dei guardiani di queste porte per poter proseguire indenne il suo cammino. Oppure ancora i testi dovevano far sì che il cuore del defunto, cuore che veniva, organo che veniva lasciato nel corpo durante le fasi dell'imbalsamazione che doveva rimanere dentro il corpo, non testimoniasse contro il proprietario durante il giudizio divino nell'aldilà. A questo proposito il capitolo probabilmente più famoso del libro dei morti è il 125 caratterizzato dalla vignetta che illustra la pesatura del cuore davanti ad Osiride, lo vedete in alto a destra. Il defunto è condotto di fronte al tribunale divino presieduto appunto dal dio dei morti in trono, Osiride, e composto da altre 42 divinità. Su un piatto della bilancia viene posto il cuore del defunto, mentre sull'altro si trova la piuma della dea Ma'at che è simbolo di verità, di giustizia e garanzia di equilibrio cosmico. Il cuore deve risultare leggero quanto la piuma affinché il defunto possa essere giudicato e dichiarato dal tribunale divino come giusto di voce e possa quindi continuare la sua esistenza ultraterrena in eterno. In caso contrario, sarà divorato da un essere mostruoso chiamato la grande divoratrice, che vedete sotto la bilancia a destra, e morirà così per una seconda volta per sempre. La scena della psicostasia è solitamente accompagnata dalla cosiddetta confessione negativa che vedete riprodotta sotto la scena. In questa confessione negativa il defunto si trova a perorare la propria causa di fronte agli dèi e dichiara per 42 volte, quindi una volta per ognuna delle divinità del tribunale, di non aver commesso una serie di peccati. In particolare afferma Una dichiarazione che ricorda da vicino i dieci comandamenti di ispirazione cristiana. Grazie dell'ascolto.